Un caro saluto da Diego Fusaro. Che cosa accadrebbe se la Russia e la Cina oggi, 2021, si unissero in alleanza e mettessero all'angolo gli Stati Uniti, la monarchia del dollaro? È una domanda non oziosa se consideriamo che la saldatura fra Russia e Cina non riuscì ai tempi dello stalinismo e del maoismo e forse, sottolineo forse, potrebbe attuarsi oggi pur nel mutato contesto sociale, politico, economico e geopolitico. È ben noto che sul piano geopolitico e non solo geopolitico il mondo è letteralmente mutato in maniera drastica, clamorosa dopo il 1989. Eppure si sta verificando, credo, sempre più palesemente, il costituirsi di un multipolarismo in fieri che sta provando, con esiti altalenanti e con modalità differenziate, a reagire in un modo o nell'altro al monopolarismo imperialistico degli Stati Uniti d'America, il quale monopolarismo coincide de facto con la globalizzazione, la quale altro non è, sotto un certo sembiante, come ho provato a mostrare nel mio libro Globalizzazione del 2019, la globalizzazione altro non è in fondo che una atlantizzazione del mondo intero, o se si preferisce americanizzazione, è un'espressione sinonimica rispetto ad americanizzazione del mondo intero. Ma che cosa accadrebbe davvero se la Russia e la Cina si unissero e insieme provassero a contrastare la forza imperialistica statunitense? Forse ne potrebbe davvero scaturire a pieno quel multipolarismo auspicabile perché è la sola garanzia per un mondo pacificato in cui i conflitti si congelino e si crei un rapporto di equilibri, di pesi e di contrappesi, tale per cui anziché la guerra imperialistica, sempre definita umanitaria e democratica degli Stati Uniti, in luogo di tutto questo si potrebbe forse finalmente avere un rapporto tra stati che si bilanciano a vicenda ciascuno esercitando la sua capacità di influenza.